Oggi le frecette decideranno quante pizze dovrò mangiare Vai iniziamo Oh vediamo vediamo Vabbè tre pizze direi che male non è andata E nel video ti dico anche quanto ho speso per tre pizze super porcose Pizza numero uno crocchette di patate, pistacchio, mozzarella e salama al pistacchio Oh mio dio Non c'ho parole Una pizza indescrivibile ma anche la seconda non scherza Mi raccomando tiriti forte Pizza carbonara E tu hai mai mangiato una pizza carbonara no? Perché altrimenti te la straconsiglio Io ci sto facendo l'amore L'ultima pizza che mi sono mangiato è alla gricia Ma quanto avrò speso Mi trovo da pizzeria con la taranto O comunque ti posso dire tre pizze e le frecette hanno fatto il loro dovere E facciamo un gioco se indovini quanto ho speso ti ci porto io gratis